Pronti? Quattro switch! Un, due, tre, stop! Go! Stop! Go! Stop! Go! Un, due, tre, stop! 20 secondi! Andiamo! Ancora due! Ultimo! Stop! Sumo! Apri! Un po' più lento! Inocchio verso la punta del piede! Scendi con i glutei! E l'ultimo! Gira! Tirata al mento! Sinistra! Lento alternato! Un, due, due! L'ultimo! Intraruota! Sumo! Tre! Lascia il braccio di stesso! Lo proviamo subito con entrambe le braccia! Ma lento! Intraruota! Su! Quattro! Se vuoi! Do! Apri! Tre! Pegga l'ultimo! Due! L'ultimo! Mulla il disco! Vai giù! Mano sotto la spalla! Tira dentro l'ombelico! Giù! Push! Ancora tre! Giù! Giù! Due! Spingi il pavimento per su! Gira! Ragazzi! Sei crunch! Su! Cinque! Quattro! Tre! Due! Lo ripeto ancora due volte! Gira! Sei push up! Veloci! Go! Sei! Push! Cinque! Push! Come vedi per adesso lascia il ginocchio a terra! Lo incrementiamo dopo! L'ultimo! Quattro tempi per prendere posizione! Piede! Mano! Tienci! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Ragazzi! L'ultima! Gira! Mano sotto la spalla! Pronti! Go! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Gira su te stesso! Mano dietro! Sei crunch! Via! Uno! Alza il mento! Butta fuori l'aria quando sali! Incolla tutto il piede a terra! L'ultimo! Rola! Grazie a tutti.